Soleil sorge e lascia un lick ad una foto di Luca Onestini, che poi rimuove, sui social, scoppia la bufera tra i fans e la reazione di Marco Cartasegna non si fa attendere Soleil sorge e torna a far parlare di sé. È bastato un lick e da parte dell'ex corteggiatrice di uomini e donne per scatenare nuove polemiche, Soleil sorge e continua ad essere criticata dai fans di Luca Onestini per aver lasciato l'ex tronista quando quest'ultimo era nella casa del grande fratello Vitt 2017 iniziando una storia d'amore con Marco Cartasegna. Soleil, tuttavia, continua a seguire Luca a distanza al punto che, nelle scorse ore, ha lasciato un lick sotto una foto dell'ex fidanzato, un gesto semplice tra due persone, che sono stati insieme. Il lick di Soleil ha rapidamente fatto il giro del web al punto che l'ex corteggiatrice di uomini e donne ha poi rimosso il lick, il gesto, però, non è passato inosservato ai fans. Luca, Soleil ti mette pure il lick, nessuno può resistere al tuo fascino vai, tutto che i bomber, sei la vita con un milione, ha scritto qualcuno mentre qualcun altro ha ironizzato così, almeno sto che era bene. La reazione di Marco Cartasegna. Soleil sorge sta vivendo una bellissima storia d'amore con Marco Cartasegna, l'ex corteggiatrice e l'ex tronista, dopo aver vissuto la loro storia privatamente, da un po' di tempo si mostrano insieme anche sui social. Dopo aver visto lo screenshot del lick, che Soleil sorge avrebbe lasciato sotto la foto di Luca Onestini, l'ex tronista ha così commentato sui social il gesto della fidanzata, che tristezza, fa che fa che fa che. L'ex tronista milanese, dunque, ironizza sull'accaduto ma non appare al fatto preoccupato, Soleil, del resto, in una recente intervista, ha dichiarato di essere profondamente felice e per nulla pentita delle decisioni prese. Soleil, invece, non ha ancora commentato quanto accaduto. L'ex tronista milanese, dunque, l'ex tronista, ha dichiarato di essere profondamente felice. L'ex tronista milanese, dunque, l'ex tronista, ha dichiarato di essere profondamente felice. L'ex tronista milanese, dunque, l'ex tronista milanese, dunque, l'ex tronista, ha dichiarato di essere profondamente felice. L'ex tronista milanese, dunque, l'ex tronista milanese, dunque, l'ex tronista milanese, dunque, l'ex tronista milanese, dunque, l'ex tronista, ha dichiarato di essere profondamente felice. Grazie a tutti.